Domani, 4 novembre, ricorre l'anniversario della fine della Grande Guerra. Militari e civili, insieme, si impegnarono per il comune obiettivo della definitiva unificazione del nostro Paese. Come avvenne allora, oggi, donne e uomini che prestano servizio nelle Forze Armate lo fanno con dedizione e onore. Lo apprezziamo in un momento particolarmente difficile, come quello che stiamo vivendo, a causa dell'emergenza sanitaria. Ancora una volta le Forze Armate manifestano senso di responsabilità e spirito di servizio a favore della coesione nazionale. La difesa ha mobilitato con grande efficienza a questo scopo tutti gli strumenti della sanità militare. Così come va ricordato e sottolineato il valore del lavoro, solto dai nostri militari, impiegati sul territorio, nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, che hanno rafforzato l'impegno per fornire sicurezza, in particolare nelle zone più critiche. E' quello di che è stato utilizzato per distribuire dispositivi di protezione, le rate alimentari e per la sanificazione di ambienti. Le Forze Armate, forti di una lunga storia che si identifica con quella dell'Italia, si conferma uno strumento che contribuisce instancabilmente alla difesa e alla sicurezza della Repubblica e al rafforzamento del ruolo significativo assolto dall'Italia nel contesto internazionale per la pace e la collaborazione, in coerenza con i principi della nostra Costituzione. Per lunga tradizione, nella giornata di oggi, vigilia del 4 novembre, al Quirinale, da cui vi parlo, vengono consegnate le onorificenze dell'Ordine Militare d'Italia, al personale che si è particolarmente distinto. A causa della situazione sanitaria, quest'anno la cerimonia non potrà aver luogo. Tengo molto, tuttavia, a congratularmi tramite questo mezzo con ciascuno degli insegniti. Avete ben meritato questo riconoscimento. Ve ne siamo tutti molto grati. Porgo a ciascuno il mio augurio con le espressioni della più viva stima, a nome del popolo italiano, e rivolgo un saluto a tutti i soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri e appartenenti al personale civile della difesa. Viva le Forze Armate! Viva la Repubblica!